Una nuova sede per il CUP, il centro unico di prenotazione e di pagamento dei ticket dell'azienda ospedaliere Civico. La gara per i lavori, che costeranno un milione di euro circa, è stata giudicata alla ditta Pampalone di Alcamo con un ribasso del 31,15%. La novità principale riguarda la sistemazione del centro sarà su un unico piano, ampio, con un ingresso diretto dall'esterno del padiglione Uffici e Servizi, vicino all'accesso principale dell'ospedale. La vecchia sede del centro unificato prenotazioni invece ospiterà il centro cuore dell'ISMET. L'ARNAS Civico ha quindi concesso l'area su due piani che è accanto all'Istituto Mediterraneo dei Trapianti, ottenendo in cambio la possibilità di perfezionare la logistica e di innalzare gli standard dei servizi offerti al cittadino nella prima fase d'accesso alla struttura ospedaliera, quella che riguarda il pagamento del ticket, la prenotazione delle visite specialistiche e l'apertura delle cartelle per i ricoveri per i day hospital e i day surgery. La nuova sistemazione del CUP definisce in maniera stabile un'accoglienza adeguata agli standard europei per l'utenza che arriva nella struttura padermitana senza urgenza. Al contempo, i lavori di ristrutturazione interesseranno il pronto soccorso e andranno a determinare un salto di qualità nell'assistenza di emergenza urgenza. Entrambe le innovazioni consentono alla sanità siciliana quel colpo di regni che permette di non avere da invidare nulla da altre strutture nazionali. Almeno questo è quanto sostiene Carmelo Pullara, il commissario straordinario dell'Arnas Civico. Il nuovo CUP avrà anche un sistema di innovazioni tecniche che consentirà di pagare il ticket anche attraverso alcuni totem, evitando così ai cittadini la fila agli sportelli, che comunque saranno 14. I lavori cominceranno all'inizio del 2014 e si concluderanno durante la prossima estate.